La storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Capitolo 9. La scelta dell'umano. Non fu facile decidere con quale umano avrebbe miagolato Zorba. I gatti fecero una lista di quelli che conoscevano, ma li scartarono tutti, uno dopo l'altro. René, lo chef della cucina, è senza dubbio un umano giusto e buono. Ci mette sempre da parte una porzione delle sue specialità, che il segretario e io divoriamo con gusto. Ma il buon René si intende solo di spezie e di pentole, quindi non ci sarebbe di grande aiuto in questo caso. Dichiarò Colonnello. Anche eri una brava persona, comprensivo e gentile con tutti, anche con Mattia, a cui perdona abusi terribili, terribili. Come farsi il bagno nel Pasciuli, quel profumo che pussa in modo terribile, terribile. E poi sa molte cose del mare e della navigazione, ma del volo credo che non abbia la minima idea. Comentò Diderot. Carlo, il capo cameriere del ristorante, assicura che gli appartengo. E io glielo lascio credere perché è un bravo uomo. Purtroppo si intende di calcio, di pallacanestra, di pallavolo, di corte di cavalli, di pugilato e di molti altri sport. Ma io non l'ho mai sentito parlare del volo. Spiegò il segretario. Per i riccioli dell'anemone. Il mio capitano è un umano dolcissimo, al punto che durante la sua ultima rissa in un bar di Anversa ha affrontato dodici tizi che lo avevano offeso e ne ha messo fuori combattimento solo la metà. Però gli basta salire su una sedia per avere le vertigini. Per i tentacoli del polpo non credo che possa aiutarci, concluse il sopravento. Il bambino di casa mia mi capirebbe, ma è in vacanza. E poi cosa può saperne un bambino del volo? Niegolò Zorba. Mannaggia, è finita la lista. Brontolò colonnello. No, c'è un umano che non è sulla lista. Spiegò Zorba. Quello che vive con Bubulina. Bubulina era una bella gatta bianca e nera che passava a lunghe ore tra i vasi di fiori di una terrazza. Tutti i gatti del porto passavano lentamente davanti a lei sfoggiando l'elasticità dei loro corpi, la lucentezza delle loro pellicce accuratamente pulite, la lunghezza dei loro baffi, l'eleganza delle loro code erette nel tentativo di impressionarla. Ma Bubulina rimaneva impassibile e accettava solo l'affetto di un uomo che si piazzava sulla terrazza davanti a una macchina da scrivere. Era un uomo strano che a volte rideva dopo aver letto quello che aveva appena scritto e a volte appallotolava i fogli senza nemmeno guardarli. La sua terrazza era sempre inondata da una musica dolce e malinconica che faceva sopire Bubulina e suscitava profondi sospiri nei gatti che passavano da lì. L'umano di Bubulina? Perché proprio lui? Chiese Colonnello. Non lo so, ma quell'umano mi ispira fiducia. Ammise Zorba. L'ho sentito leggere quello che scrive. Sono belle parole che rallegrano o rattristano, ma non mancano mai di provocare piacere e desiderio e di continuare ad ascoltare. È un poeta! Si chiama poesia quello che fa, sedicesimo volume, le terapie dell'enciclopedia. Dichiarò Diderot. E cosa ti fa pensare che quell'umano conosca il volo? Vole sapere segretario. Forse non sa volare con Aliduccello, ma ad ascoltarlo ho sempre pensato che voli con le parole. Rispose Zorba. Chi è d'accordo che Zorba miagoli con l'umano di Bubulina, alzi la zampa a destra. Ordinò Colonnello. E fu così che lo autorizzarono a miagolare con il poeta. E fu così che lo autorizzarono a miagolare con l'umano di Bubulina, alzi la zampa a destra.